In questa lezione parleremo di effetti 3D o anche di livelli 3D all'interno di Photoshop, abbiamo visto nella lezione precedente come lavorare con le grafiche vettoriali, abbiamo detto che esistono poi anche programmi più specifici per la grafica vettoriale come Illustrator della stessa casa Adobe o anche InScape che è un'alternativa gratuita. Abbiamo detto disegno tecnico CAD, in questo caso LibreCAD alternativa gratuita ad AutoCAD, quindi disegno vettoriale più tecnico. Ovviamente anche per quanto riguarda il 3D abbiamo tantissime opzioni, troverete anche altri corsi, altre guide all'interno del canale, per esempio per iniziare potreste usare un programma molto semplice come WAMP3D oppure per esempio abbiamo SketchUp Oppure abbiamo programmi un pochino più avanzati come 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D e Blender. Blender è un programma anche open source e gratuito che potete cominciare a esplorare senza dover investire nessuna somma di denaro. Gli altri sono dei programmi a pagamento ma che hanno comunque delle prove gratuite che potrete utilizzare. E poi esistono tantissimi altri programmi anche per quanto riguarda il rendering 3D, incluso Blender, ma poi abbiamo appunto per esempio Twinmotion, anche per l'animazione 3D avanzata o anche se vogliamo Unreal Engine, non solo per l'animazione ma anche per l'interazione e la creazione di vere e proprie appunto videogiochi o comunque applicazioni interattive. Troverete tutti quanti i corsi poi nel canale. Le prime due impostazioni che andiamo a vedere prima di iniziare sono sulla finestra. Controlliamo che si attiva la finestra del 3D oppure semplicemente sulle aree di lavoro possiamo passare da modalità essenziale al 3D. In questo caso appunto ci aiuterà a lavorare in questa modalità particolare. Come vedete qui gli strumenti del 3D sono molto ridotti. Possiamo creare forme 3D partendo da una selezione, partendo da una forma vettoriale, partendo da un testo. Possiamo lavorare con i materiali, possiamo dipingere anche sull'oggetto 3D o cancellare. Possiamo riempire con appunto lo strumento secchiello o riempimento e quindi abbiamo appunto varie possibilità per iniziare un po' a capire anche il mondo del 3D. Ma ripeto poi se vorrete qualcosa di più avanzato dovrete spostarvi in altri programmi come quelli citati. Infine andiamo su modifica, preferenze, quindi altra cosa che andiamo a controllare è la parte relativa alle prestazioni. Quindi assicuriamoci che abbiamo a disposizione un processore grafico dedicato. In questo caso vedete sto utilizzando una scheda Nvidia RTX 3070. In questo modo riusciremo a gestire il 3D altrimenti sarà un po' pesante. E poi utilizziamo l'OpenGL e altra cosa che andiamo a vedere nelle impostazioni, scendendo giù abbiamo proprio una parte del 3D e qui possiamo vedere quanta memoria virtuale abbiamo a disposizione all'interno del processore grafico, quindi della scheda video e quanto ne vogliamo utilizzare. Ovviamente qui andremo a utilizzare il 100% per migliorare le impostazioni. A questo punto qui ci sono altre impostazioni, se volete vederle, per esempio la qualità delle ombre, se volete abbassarle, se sono troppo pesanti oppure appunto la qualità del rendering o come vedete quando andremo a caricare possiamo anche importare degli oggetti 3D e qui abbiamo delle impostazioni che possono aiutare ad alleggerire magari un pochino il carico sul programma. Ok, quindi come vedete qui ho già inserito una piccola forma 3D quando lavoro con una forma 3D entro in un livello 3D quindi se vado a vedere qui all'interno dei livelli oltre ai livelli che ho creato precedentemente vettoriali ho anche appunto un nuovo livello 3D adesso lo vado a eliminare perché rinizieremo e vedremo la procedura partendo dall'inizio. Qui vedete che abbiamo le parti della lezione precedente quindi come posizionare un testo su un tracciato che può essere anche una forma chiusa quando creiamo delle forme o dei testi ricordiamoci anche che abbiamo tutta la parte qui sulla destra quindi per esempio in questo caso sto sul livello del testo e quindi abbiamo anche qui la possibilità di trasformarlo di scegliere un'altra tipologia di carattere e di impostare il paragrafo, il testo e poi come vedete altre impostazioni. possiamo anche convertire il testo in forma e anche in cornice per applicare all'interno delle immagini andiamo a vedere per esempio anche le opzioni della forma anche da qui vedete possiamo gestire la larghezza, l'altezza, la rotazione, il riempimento e la traccia quindi in questo caso colore della traccia spessore tratteggio o puntini ovviamente più o meno grandi quindi abbassando e aumentando la loro dimensione e poi possiamo anche lavorare con il posizionamento dei puntini se esternamente, internamente o in mezzo e poi come vengono tagliate diciamo le parti aperte e gli spigoli delle grafiche prendiamo un nuovo file ok in questo caso sto utilizzando un'immagine 1000x1000 abbasso anche la risoluzione per essere più veloce in quanto anche gli effetti 3D sono abbastanza pesanti in questo caso metto 1000x1000 ok in modo tale da comunque avere abbastanza pixel per poter vedere bene e riprendiamo quindi i vari strumenti vettoriali partiamo dal testo quindi se io vado a creare un testo mettiamo appunto un semplice semplice scritta quindi 3D o magari scriviamo grafica 3D ok la prima cosa che posso fare è ovviamente scegliere un font come abbiamo visto anche precedentemente posso anche scaricare e installare altri font tutto quello che noi vediamo in 2D può essere rappresentato anche in 3 dimensioni in termini di testo quindi prendiamo per esempio questo testo facciamo anche un po' più grande e poi se vogliamo possiamo già dare un colore diverso come vedete qui c'è un piccolo pulsantino 3D prima di andare sul 3D però andiamo a vedere anche un'altra impostazione interessante del testo ovvero la possibilità di alterare il testo abbiamo visto per esempio precedentemente che possiamo alterare le grafiche raster con degli effetti per esempio ad arco o ad arco prospettiva mettiamo spostiamoci un pochino quindi ho una serie di effetti che posso applicare anche direttamente sul testo ad esempio anche come vedete rigonfiamento bandiera onda e via dicendo ok in questo caso scelgo un effetto quindi in più che voglio applicare e poi andiamo in 3D quando clicco su 3D vedete che automaticamente il testo verrà estruso e quindi sono entrato automaticamente in modalità 3D se vado a vedere qui nei livelli il livello 3D mi viene rappresentato in questo modo anche in questo caso posso convertire il livello come ho fatto precedentemente quindi se clicco con il destro posso per esempio rasterizzare il livello di nuovo una volta che è rasterizzato diventa un normale livello grafico che posso per esempio andare a cancellare con la gomma o che posso modificare con lo strumento sfumino o con i filtri ecco qui per esempio con lo strumento sfumino posso con i vari pennelli andare a modificare in questo modo cosa che non è possibile né quando il livello è un livello vettoriale né quando il livello è un livello 3D quindi sono andato indietro ctrl z qui nella scheda 3D invece troviamo poi tutte quante quelle che sono le proprietà della scena che abbiamo appena creato perché noi nel momento in cui andiamo a creare un livello 3D andiamo a creare una serie di impostazioni per un'intera scena 3D quindi la scena 3D è composta innanzitutto dal modello 3D ovvero in questo caso dal testo 3D che lo vediamo qui in questo punto dopodiché abbiamo un ambiente che possiamo modificare la scena in sé per sé la vista ovvero quella che bisogna